Hi everybody! Benvenuti alla seconda lezione del mio corso d'inglese intermedio di livello B1. Prima di presentarvi gli argomenti della lezione, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube per seguire altri contenuti e a lasciare un like al video. Bene, siete pronti? Are you ready? Cominciamo, let's start! Per la parte relativa al vocabolario, impareremo il materiale scolastico, school supplies, e anche delle frasi, ovvero dei modi di dire, usati nel contesto scolastico, school collocations. Per la parte grammaticale vedremo il present simple e il present continuous. Concluderemo la nostra lezione con un esercizio di ascolto, listening, e di lettura e comprensione. Reading and comprehension. Passiamo in rassegna il materiale scolastico, school supplies. Ripetete insieme a me per affinare la pronuncia. Quindi, highlighter, pencil, pen, marker, eraser, sharpener. Poi abbiamo stapler, glue, calculator, paperclips, ruler, and scissors. Again, stapler, glue, calculator, paperclips, ruler, and scissors. Adesso esercitiamoci. Unscramble the words. Mettiamo in ordine le lettere. Questo esercizio ci consentirà di memorizzare la forma scritta delle parole. Quindi, mettete in pausa il video, svolgetelo e poi lo correggiamo. Are you ready? Abbiamo pencil. Sharpener. Pen. Scissors. Calculator. Glute. Glute. Stapler. Marker. Paperclips. Ruler. Highlighter. And eraser. Very good. Come è andato? Bene? Ottimo lavoro. Adesso passiamo in rassegna i modi di dire, ovvero quell'insieme di parole che danno origine a un significato legato proprio al contesto scolastico. Quindi, arrive at school. Arrivare a scuola. Arrivare a scuola. Hand in homework. Hand in homework. Significa consegnare i compiti. Attend classes. Attend classes. Seguire le lezioni. Go on school trips. Go on school trips. Andare in gita scolastica. And wear a uniform. Wear a uniform. Indossare una divisa. Poi abbiamo. Take up a new sport. Take up a new sport. E' iniziare un nuovo sport, una nuova attività sportiva. Join in an after school club. Significa partecipare ad un'attività extrascolastica. Get good grades. Prendere buoni voti. Quindi ottenere buoni risultati. Do an exam. Fare un esame. And perform on stage. Esibirsi sul palco. Quindi ripetiamo. Take up a new sport. Join in an after school club. Do an exam. Perform on stage. And get good grades. Esercitiamoci. In questa slide dovrete completare le frasi inserendo le parole corrette negli spazi vuoti. per formare i modi di dire. Trovate le parole mancanti nel box centrale. Ormai lo sapete. Mettete in pausa il video. Svolgete l'esercizio. E poi lo correggiamo. Ready? Arrive at school. Very good. Arrive at school. Arrivare a scuola. Hand in homework. Hand in homework. Quindi consegnare un compito. Wear a uniform. Quindi indossare una divisa. Take up a new sport. Quindi iniziare una nuova attività sportiva. Attend classes. Quindi seguire le lezioni. Perform on stage. Quindi esibirsi sul palco. Do an exam. Quindi fare un esame. Join an after school club. Quindi partecipare a un'attività extrascolastica. Get good grades. Quindi ottenere buoni voti, buoni risultati. Go on a school trip. Andare ad una gita scolastica. Come è andato l'esercizio? Very good. Ok, continuiamo con il nostro vocabulary. Fill in the gaps with the correct word. Quindi fill in the gap with the correct word. Quindi inseriamo il verbo corretto negli spazi vuoti. Ci siamo? Number one. My mom is always proud of me when I get good grades. Very good. My mom is always proud of me when I get good grades. Quindi mia madre è sempre fiera di me quando prendo buoni voti, buoni risultati. Number two. The teacher gets really angry when we are homework late. Quindi... Yes, hand in. So the teacher gets really angry when we hand in our homework late. L'insegnante si arrabbia molto quando consegniamo i nostri compiti in ritardo. Number three. We must... Arrive at school on time. Quindi è necessario, dobbiamo arrivare a scuola in tempo. I have decided to take up a new sport. Quindi io ho deciso di cominciare una nuova attività sportiva. Lui studia e fa esami una volta al mese. Number six. My father wants me to... An after school club to get me busy. To keep me busy. Quindi mio padre... Quindi... Join... Esatto, partecipare. Quindi my father wants me to join an after school club to keep me busy. Sì, mio padre vuole che partecipi a un'attività extrascolastica per tenermi impegnato. Number seven. I go to Catholic school and we have to wear a uniform. Quindi... Frequento una scuola cattolica e quindi dobbiamo indossare una divisa. Last exercise, l'ultimo. Number eight. I attend... I attend classes every day from eight to one o'clock. Quindi io frequento le lezioni tutti i giorni dalle otto all'una. Se siete riusciti a inserire i verbi corretti, avete svolto con successo l'esercizio. Great job! Bene, abbiamo concluso la parte relativa al nostro vocabulary. Adesso passiamo alla parte grammaticale. Come avevo anticipato, nel sommario vedremo il present simple e il present continuous. Vediamo quando si usano. We use present simple to talk about things that are always true. Quindi utilizziamo il present simple per parlare di cose che sono sempre vere, ovvero informazioni che sono sempre vere. For example... The capital of Ohio is Columbus. La capitale dell'Ohio è Colombo. Oppure... Things that we regularly do or routines. Quindi cose che facciamo regolarmente, ovvero delle routine. Quindi... On Fridays I go to the cinema and usually cook fish for dinner. Quindi di solito i venerdì, quindi tutti i venerdì vado al cinema e solitamente preparo il pesce per la cena. Quando lo utilizziamo il present continuous? We use present continuous to talk about things that are happening now. Quindi noi utilizziamo il present continuous per parlare di cose che stanno avvenendo nel momento in cui si parla adesso, now. For example... I'm sorry I can't answer the phone at the moment because I'm getting ready to go to work. Quindi mi dispiace che non posso rispondere al telefono al momento perché al momento mi sto preparando per andare a lavorare. Oppure... Things that are temporary. Quindi cose che sono temporanee, che appartengono al momento. I'm living with my sister until I find a new job. Quindi... Vivo, sto vivendo, sto abitando con mia sorella fino a quando avrò trovato un nuovo lavoro. Quindi abito, abiterò con mia sorella fino a quando troverò un nuovo lavoro. All clear? Great. Se volete ripassare la struttura di questi due tempi verbali, vi consiglio di andare a vedere i miei video che ho realizzato proprio su questi due tempi verbali. Bene. Qui dovete mettere in pratica quanto abbiamo visto nella slide precedente. In particolare dovrete scegliere il tempo verbale corretto tra le due opzioni date. Il present simple o il present continuous. Quindi complete with present simple or present continuous. Dovete scegliere. Mettete in pausa il video, svolgete l'esercizio con calma e poi lo correggiamo insieme. Number one. At the moment I, I do my homework or I'm doing my homework? At the moment I'm doing my homework perché stiamo parlando di un'azione che si svolge nel momento in cui stiamo parlando, nel momento in cui parliamo. Number two. They attend or they are attending classes every day from 8 to 1 o'clock. They attend, they attend classes from, every day from 8 to 1 o'clock. Perché? Perché qui stiamo parlando di una routine. Ok? Number three. She writes an essay about Egypt and has to hand it in by Friday or she is writing an essay about Egypt and has to hand it in by Friday? She is writing an essay about Egypt and has to hand it in by Friday. Quindi lei sta scrivendo una relazione sull'Egitto e deve consegnarla entro venerdì. Quindi she is writing significa che stiamo parlando di un momento vicino, quindi qualcosa di temporaneo, vicino al momento in cui stiamo parlando. Number four. I go to the gym on Mondays or I'm going to the gym on Mondays? I go to the gym on Mondays perché significa che io vado in palestra tutti lunedì. Quindi è una routine, è qualcosa che si verifica abitualmente. Number five. I have an exam tomorrow morning, so I need to study hard. Or I'm having an exam tomorrow morning, so I need to study hard. I have an exam tomorrow morning, so I need to study hard. È una verità. Io ho un esame, c'è un esame. Ho un esame domani mattina. Number six. He never has time to join an after school club or he never is having time to join any after school club? He never has time to join an after school club. Quindi lui non ha mai tempo per partecipare a un'attività extrascolastica. Quindi anche qui stiamo parlando di un'informazione e non di un'azione che si sta svolgendo nel momento in cui si parla. Come è andata? Come è andata? Great. Siete riusciti a capire la differenza nel contesto delle frasi tra present simple e present continuous? Great job. Abbiamo concluso la parte relativa alla grammatica. Adesso passiamo al listening. In questo esercizio vi farò ascoltare un brano due volte. La prima volta dovrete provare a comprendere il senso generale. La seconda volta dovete segnare quali oggetti Peter ha messo nello zaino e quali no. Quindi cominciamo col primo ascolto. Qui soltanto il senso generale. Peter, did you prepare your school bag for tomorrow? I'm preparing it now mum. I'm putting in my pencil, my eraser and my ruler because I have art class tomorrow. Did you put your pencil sharpener in? No, I didn't. I'm putting it in now too. Also, tomorrow I have a math exam so I need my calculator. Did you get your scissors and glue? No, I didn't. I don't need them. And your highlighter? No, I don't need my highlighter either. I'm putting my marker in because we want to do a poster with my classmates and we'll need it. Ok, adesso ascolteremo il brano di nuovo e qui dovete segnare le cose che Peter ha messo nello zaino, gli oggetti scolastici che Peter ha messo nello zaino. Ready? Peter, did you prepare your school bag for tomorrow? I'm preparing it now mum. I'm putting in my pencil, my eraser and my ruler because I have art class tomorrow. Did you put your pencil sharpener in? No, I didn't. I'm putting it in now too. Also, tomorrow I have a math exam so I need my calculator. Did you get your scissors and glue? No, I didn't. I don't need them. And your highlighter? No, I don't need my highlighter either. I'm putting my marker in because we want to do a poster with my classmates and we'll need it. Ok. Siete riusciti a svolgere l'esercizio? Vediamo, correggiamolo insieme. Number one. Pen? No. Marker? Yes. Highlighter? No. Calculator? Yes. Stapler? No. Ruler? Yes. Glue? No. Scissors? No. Pencil? Yes. Eraser? Yes. Sharpener? Pencil sharpener? No. Paper clips? No. Very good. Molto bene. Adesso riascoltiamo il brano audio guardando la trascrizione e poi lo traduciamo insieme. Peter, did you prepare your school bag for tomorrow? I'm preparing it now, Mum. I'm putting in my pencil, my eraser and my ruler because I have art class tomorrow. Did you put your pencil sharpener in? No, I didn't. I'm putting it in now too. Also, tomorrow I have a math exam so I need my calculator. Did you get your scissors and glue? No, I didn't. I don't need them. And your highlighter? No, I don't need my highlighter either. I'm putting my marker in because we want to do a poster with my classmates and we'll need it. Bene, quindi qui potete confrontare le vostre risposte con la trascrizione. Quindi, Peter, did you prepare your school bag for tomorrow? Peter, hai preparato il tuo zaino per domani? I'm preparing it now. Lo sto preparando adesso, mamma. I'm putting my pencil, my eraser and my ruler because I have art class tomorrow. Quindi, sto mettendo la mia matita, la mia gomma e il mio righello perché ho lezione di arte domani. Did you put your pencil sharpener? Hai messo il tuo temperino? No, I didn't. No, non l'ho fatto. I'm putting it now too. Lo sto mettendo adesso anche. Also, tomorrow I have a math exam so I need my calculator. Inoltre, domani ho un esame di matematica e quindi mi serve la calcolatrice. Did you get your scissors and glue? Hai preso le tue forbici e la colla? No, I didn't. No, non l'ho fatto. I don't need them. Non mi servono. And your highlighter? E il tuo evidenziatore? No, I don't need my highlighter either. No, non mi serve nemmeno il mio evidenziatore. I'm putting my marker because we want to do a poster with my classmates and we'll need it. Sto mettendo il pennarello perché dobbiamo fare un poster con i miei compagni di classe e ci servirà. Bene, abbiamo concluso la parte relativa al listening. Passiamo all'ultima parte della lezione. Reading and comprehension. Adesso vi leggerò questo brano scritto. Il vostro obiettivo è quello di provare a comprendere il senso generale. Successivamente dovrete sottolineare il vocabolario e i tempi verbali che abbiamo imparato precedentemente. Mettete in pausa il video, svolgete l'esercizio e per lo correggiamo insieme. Quindi, me and my school. I'm Kelly and I'm 16 years old. I'm from the west coast of Canada. I go to Westside High School. I really like my school because it offers a lot of opportunities to cultivate new interests. In this school, we wear a uniform. It's red and blue. My favorite subject is history. I love acting and I joined the school theater club. We are getting ready to perform on stage next month. My parents make it clear that if I don't get good grades, I can't take up a new sport. For this reason, I'm trying my best to hand in my homework on time and study hard when I have exams. I also love discovering new places and new cultures. Unfortunately, we do not go on school trips very often. So, I read a lot of books about other countries. And, at the moment, I'm reading an interesting book about Australia. I also watch a lot of documentaries and follow travel blogs. Bene, siete riusciti a cogliere il senso generale del brano? Ottimo! Adesso, sottolineate, evidenziate, sia i vocaboli che abbiamo fatto precedentemente, sia i tempi verbali di cui abbiamo parlato. Sono sicura che avete finito di sottolineare, quindi guardiamoli insieme. Quindi, come vocabolario, abbiamo fatto wear a uniform. Join an after-school club. In this case, join the school theater club. Perform on stage. Get good grades. Take up a new sport. Hand in homework. And have exams. Go on school trips also. Very good. Mentre, per quanto riguarda i tempi verbali, in nero, vedete il present simple. I go. I really like. It offers. My parents make it clear. I can't. I read. Follow. Ok? Mentre in rosso, vedete il present continuous. We are getting. I'm trying. I'm reading. Clear? Great job. Andiamo avanti. Qui dovrete completare la scheda di Kelly, la protagonista del brano, inserendo le informazioni mancanti. Se vi sfugge qualche informazione, rileggete il brano, quindi andate indietro con il video, rileggete il brano e poi completate la scheda. Adesso verifichiamo. Name. What's her name? Kelly. How old is she? 16. So her age. How old is she? Where is she from? She's from Canada. Remember? West Coast. School. Westside High School. Very good. And what's her favorite subject? Do you guys remember? Yes. It's history. She likes history. How about after school activities? School theater club. Very good. Does she have any interest? Yes. Discovering places and cultures. Very good. Ottimo lavoro. Great job. Infine, dovrete rispondere a queste domande a risposta aperta. Per svolgere l'esercizio potete tornare indietro e rileggere il brano se qualcosa vi sfugge. Leggiamo le domande. Do students wear a uniform at Westside High School? Number two. In order to take up a new sport, what do Kelly's parents want her to do? Number three. When will Kelly perform on stage? Number four. What does Kelly do to be informed about new countries and other cultures? Ora tocca a voi. Svolgete l'esercizio. Bene. Correggiamolo insieme. Number one. So do students wear a uniform at Westside High School? Yes. Students wear a red and blue uniform. Let's go check. Verifichiamo. In this school, we wear a uniform. It's red and blue. Number two. In order to take up a new sport, what do Kelly's parents want her to do? Kelly's parents want her to get good grades. Quindi cosa vogliono i genitori? Vogliono che le prenda buoni voti. My parents make it clear. I miei genitori sono molto chiari. Se non prendo buoni voti, non posso partecipare ad attività sportive. Number three. When will Kelly perform on stage? Quindi quando si esibirà Kelly sul palco? Kelly will perform on stage next month. Let's verify. We are getting ready to perform on stage next month. Quindi ci stiamo preparando per esibirci sul palco il prossimo mese. Very good. And last question, number four. What does Kelly do to be informed about new countries and other cultures? Quindi cosa fa Kelly per informarsi su nuovi paesi ed altre culture? Very good. Exactly. Kelly reads books, watches documentaries and follows blogs to learn about new countries. Quindi cosa fa? I read a lot of books about other countries. Quindi io leggo tanti libri su altri paesi. Al momento sto leggendo un libro molto interessante sull'Australia. Inoltre, I also, io guardo anche molti documentari e seguo tanti blog relativi ai viaggi. Very good job. E con questo esercizio abbiamo terminato la nostra lezione. Abbiamo concluso la nostra seconda lezione di questo corso di inglese intermedio B1. Continuate ad esercitarvi. Keep working. E ci vediamo alla prossima. See you soon. Bye. Keep working. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Grazie.